Ricordate quella scritta messa sopra l'ingresso di un posto dove gli abruzzesi, grandi risparmiatori, si recavano con fiducia. Cassa di risparmio della provincia di Teramo, così recitava. In alcune filiali quella scritta c'è ancora. Cassa di risparmio, dove il frutto del lavoro era custodito e conservato, dove i tassi di interesse erano alti e invitanti e dove la gente, gli abruzzesi appunto, si fidavano. Quella scritta da oggi non c'è più. cancellata da anni di gestione scellerata, dove l'istituto di credito era diventato un istituto di debito, dove il credito era riservato a pochi e dove la finanza aveva preso il posto del risparmio. Di quella banca ci si fidava perché chi la gestiva era abruzzese, proprio come noi. Era uno della nostra gente, che si conosceva, al quale potevi parlare e chiedere. E lui risolveva ogni problema perché non aveva un computer davanti, ma una persona che conosceva e sapeva con chi aveva a che fare. Da oggi quella che doveva essere l'evoluzione di quella banca, ma che in realtà si è dimostrata la rovina, banca Tercas, non è più roba nostra. Ha un presidente che non è più teramano abruzzese, un direttore generale che non è più teramano abruzzese, ma questa ultimamente non era una novità, un proprietario che non è più teramano abruzzese. Non ha più una fondazione che rappresentava una garanzia e un sostegno per il territorio. Non ha più un consiglio di amministrazione dove chi era dentro era l'espressione di un territorio, il nostro appunto. Non abbiamo più una banca, lo sapevamo, ma questa vicenda è come un lutto atteso per una malattia. Tutti lo sanno, ma quando arriva dispiace. Ecco, oggi è arrivato. La Banca Popolare di Bari, istituto grande e potente, è il nuovo padrone. Raccoglierà i nostri soldi e li farà fruttare. Magari aumenterà non solo la raccolta, ma anche gli impieghi. Bisognerà valutare se questi, poi, avranno ripercussioni positive sul nostro territorio o finiranno altrove. Una cosa è certa, da oggi siamo più poveri. Ricordate la famosa frase riferita ad Unipol, abbiamo una banca? Da oggi noi abruzzesi non ce l'abbiamo più.